tempo fa dicesti che in questa vita è possibile programmare il tempo di permanenza nella disincarnazione e poi programmare anche la prossima vita sì non è esattamente così ok allora la scienza per sua natura cosa ci dà tecnologia giusto quindi io scopro una legge scientifica la leva e quindi quando devo spostare qualcosa invece di farla con mera forza fisica uso la leva e grazie a questa conoscenza della fisica posso spostare pesi più importanti che con le sole braccia non ce la farei quindi la scienza spirituale che spiega come funzionano le grandi leggi nella vita e nella morte se io capisco attraverso lo studio la ricerca cosa serve il processo dell'aldilà cosa viviamo perché lo viviamo come funziona io posso sviluppare delle metodiche tale da abbreviare la permanenza nell'aldilà perché nell'aldilà di fatto non ci si evolve nell'aldilà perdiamo quasi del tutto il libero arbitrio e siamo assoggettati dalla legge di natura gli effetti delle cause che abbiamo vissuto in vita una volta che abbiamo diciamo così vissuto tutto quel processo poi l'altro processo che si vive è la preparazione per il ritorno nell'incarnazione va bene quindi è un fatto scientifico non è un fatto religioso perché gesù era un laico alla fine era figlio di un falegname e di una ragazza maria aveva 16 17 anni quando è rimasta incinta del signore quindi se io conosco maria lisa questa queste cose non è che programmo il giorno della rinascita posso accorciare svolgendo qui con coscienza secondo come la legge me lo chiede dei lavori che mi risparmio di farmi nell'aldilà quindi vado nell'aldilà ci rimango nell'aldilà ci si può rimanere secoli tesoro mio adesso qui è una cosa un po certo che me lo ricordo lo faccio no nell'aldilà ti ricordi tutto al contrario noi moriamo quando ci incarniamo perché vedi domanda ma se davvero siamo eterni ma perché cacchio non me lo devo ricordare perché noi ci incarniamo in pianeti con società violente come questa perché dobbiamo fare pace con chi abbiamo offeso quindi le nostre relazioni amicali parentali genitoriali filiali di coppia sono dettate dalla legge della compensazione dobbiamo fare pace ecco quindi che se io ho brutalizzato una ragazza quella rinasce con me e diventa mia figlia perché devo imparare ad amarla devo riparare il mio errore quindi la misericordia della legge divina ci fa dimenticare facciamo un altro esempio se io durante la guerra fossi stato un nazista che dirigeva auschwitz e vi ho gasificato tutti col cavolo che venite alla conferenza dice chi quella no quello ci ha ammazzato quindi per misericordia la legge di natura ci toglie il ricordo perché così possiamo fare pace con obbi anni fa una signora che non ho più rivisto ma per un periodo la frequentare lei ricordava tutto dice pierre è una maledizione perché qualsiasi persona che incontro tra me e quella persona c'è stato della sofferenza diventi matto dici a volte mi devo chiudere in casa e non uscire perché non ce la faccio più perché ricordo la violenza che ho dato che ho subito invece dio col processo della morte della rinascita ci toglie il ricordo e ci dà una nuova opportunità di fare quella che dovrebbe essere la cosa più ovvia amarci ognuno pensare al bene del prossimo facciamo l'opposto basta ma perché non cambiare magari se cambiamo accade qualcosa proviamo a sperimentare una cosa diversa magari ci rimane ci rimane io ci sono rimasto perché siamo talmente abituati a quel processo belligerante che quando incominci a sperimentare sistematicamente il processo opposto le leggi di natura danno una forza propulsiva al cambiamento pazzesca molto più veloce che nel male perché il male rema controcorrente rispetto alle leggi d'amore dell'universo il bene rema favore quindi viaggi più veloce quindi nell'arco di una sola incarnazione se la muti nel bene puoi fare cose inimmaginabili a me è successo così poi direte ci sono gli extraterrestri ma quelli ci sono sempre sono i nostri fratelli maggiori l'umanità da sempre accompagnata da questi angeli non sono astronauti di altri mondi sono esseri molto di più però ribadisco studiamo i libretti leggiamo e formiamoci una nuova cultura da lì si inizia ma un cambiamento è possibile dipende solo da noi farlo o non farlo libero arbito the bon giovanni family la voce degli extraterrestri il sito ufficiale di giorgio bon giovanni documenti immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi l'apparizione delle stimmate e le indagini medico scientifiche più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre il testo inedito della madre di tutte le profezie un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo una risposta per chi cerca la verità e e e e e e Grazie a tutti.